Solo Dio può farci uscire dalla crisi. Tutti i metodi umani sono stati utilizzati, ma la pace non ritorna. In questo video della Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, il sacerdote centrafricano Albert Tungo Malebaba, ucciso a Bangui il primo maggio scorso, lanciava un appello per la pace nella Repubblica Centrafricana. Il video risale al 2015, lo stesso anno del viaggio di Francesco a Bangui, con cui, almeno nella capitale, è riuscito a far tacere le armi e a riportare l'armonia tra cristiani e musulmani, armonia minata da chi aveva l'interesse nel far scivolare una guerra di potere in un conflitto interreligioso. Quella tentazione di far implodere i centrafricani è tornata ad essere una preoccupazione a Bangui, e lo è nell'80% del paese, grande due volte l'Italia, dove comandano i miliziani che hanno solo l'interesse a gestire le risorse del paese. La gendarmeria e i caschi blu della Minuska hanno il compito di disarmare questi gruppi, ma il piano non sta funzionando. Nelle settimane scorse, infatti, hanno solo scatenato guerriglia i tentativi di disarmare la banda del cosiddetto generale Force che si annida nel quartiere di Bangui, chiamato Chilometro 5, la storica enclave di cultura araba. Proprio questo tentativo ha scatenato la rappresaglia dei miliziani contro la parrocchia cattolica di Nostra Signora di Fatima, retta dai missionari combuniani, che si trova nel quartiere Chilometro 5. Non si sa ancora cosa vogliano ottenere da questo attacco, ma sta di fatto che Don Albert, sacerdote diocesano, ben voluto anche dai musulmani, è stato ucciso durante una celebrazione. L'energico cardinale di Edonenza Palahinga, arcivescovo di Bangui, è molto preoccupato. È riuscito a non far precipitare il paese durante la guerra del 2013. Ieri, dopo aver ricevuto il presidente, Arashange Touadera, ha lanciato un appello. Cerchiamo di superare il male attraverso l'amore, il perdone e la riconciliazione. Musulmani e cristiani siamo un unico popolo. Dobbiamo lavorare mano nella mano per costruire la Repubblica Centrafricana.